Ben trovati a questo video tutorial per far vedere come compilare la domanda per un docente titolare della scuola di secondo grado per il trasferimento. Allora entrando con il proprio speed su istanze online andando a guardare le istanze presenti al momento troverete le istanze riferite alla mobilità già attive e pronte per essere compilate. Troverete per esempio la domanda di mobilità secondaria di secondo grado per i titolari del secondo grado, la domanda di mobilità secondaria di primo grado per i titolari del primo grado, la domanda di mobilità di primaria per i titolari della scuola primaria e la domanda di mobilità dell'infanzia per i titolari dell'infanzia. dunque tornando indietro e andando a vedere come si fa la compilazione per il secondo grado bisogna fare clic su vai alla compilazione subito si entra in una pagina dove ci sono i dati personali e l'informativa sui dati personali e sulla legge della privacy ma troverete anche un tasto per chiedere informazioni sulla compilazione al sistema informatizzato intanto sull'informativa era price dovete fare cliccare su questo quadratino per aver letto e accettato i termini e le condizioni legali e poi fate avanti per entrare in una pagina con tutti i vostri dati personali dati di recapito da dati anche riferiti alla propria posizione giuridica di titolarità su classe di concorso e scuola facendo ancora avanti si potrà entrare nella parte che ci consente di compilare la domanda le domande disponibili sono tre quelle diciamo riferite al trasferimento dalla propria classe di concorso alla stessa classe di concorso per province diverse o per comuni diverse a quelle di titolarità o per scuole dello stesso comune dunque attraverso questo tasto potete fare per la classe di concorso di titolarità inserire la domanda per la mobilità territoriale di prima fase seconda fase e terza fase facendo clic su questo tasto si entra in nella pagina della compilazione della domanda troverete queste otto possibilità di riempire di compilare l'anzianità del servizio le esigenze di famiglia i titoli generali le precedenze la scelta del tipo di posto che diventa obbligatoria per poter inoltrare la domanda alcuni requisiti che vi vengono richiesti le preferenze e le indicazioni degli allegati e poi si ricorda che la domanda va sempre salvata perché rimanga in bozza questo fare salva non significa fare l'inoltro della domanda ma salvare la domanda nel sistema per poi poterla completare anche in un secondo momento andiamo a vedere per esempio come si riempie la pagina riferita all'anzianità del servizio si clicca su anzianità del servizio e si aprono queste richieste che sono numerate secondo l'ordine crescente dei numeri 1 2 3 4 5 6 fino al numero 6 dunque questo rappresenta tutta l'anzianità del servizio 6 caselle che non vanno compilate tutte ma vanno compilate a seconda la situazione contingente per esempio nella prima casella la casella a 1 bisogna inserire gli anni di servizio effettivamente prestati dopo la decorrenza giuridica della nomine ruolo di appartenenza per ruolo di appartenenza nella fattispecie si indica la titolarità nel secondo grado nella secondaria di secondo grado e per cui si esclude l'anno in corso cioè il 2023 2024 non va conteggiato e vanno conteggiati tutti gli anni precedenti nella fattispecie del mio esempio mettiamo 14 anni di anni di servizio escluso l'anno in corso questi anni vengono calcolati sei punti per ogni angolo nella fattispecie 14 anni per 66 per 4 24 sono 24 e sono 84 punti 84 punti semplicemente di anzianità del servizio procediamo con la casella numero 2 dove si può mettere il numero di servizio di ruolo prestato in un ruolo diverso da quello di appartenenza attenzione in questa casella andrebbe inserito solo ed esclusivamente il ruolo fatto nella scuola di secondaria di primo grado non va nella primaria nell'infanzia che invece andrebbe inserita nel pre ruolo per i titolari della scuola secondaria di secondo grado qua va inserire andrebbe inserito solo l'anzianità di servizio prestato nella di titolarità come ruolo nella scuola secondaria di primo grado io non ne ho posso lasciare la casella in bianco oppure mettere semplicemente lo zero è equivalente se c'è una retrattività giuridica non coperta da effettivo servizio si può inserire qui sempre riferito al ruolo di attuale titolarità io non ne ho metto zero della casella numero 3 tutto il servizio pre ruolo prestato in qualsiasi tipo di grado di istruzione primaria infanzia anche il ruolo della primaria e ruolo dell'infanzia andrebbe calcolato col pre ruolo io nella mia situazione ho 13 anni di ruolo di pre ruolo tutto nella scuola secondaria e lo inserisco in questa casella poi si compila la casella numero 4 solamente per coloro che hanno una continuità del servizio nella scuola di attuale titolarità escluso l'anno in corso da almeno tre anni nella mia nel mio caso sono dieci anni di ruolo prestato sempre nella scuola di titolarità senza mai interrompere il servizio senza aver mai chiesto un'assegnazione provvisoria senza essere mai andato in aspettativa e aver interrotto il servizio senza mai aver fatto un dottorato di ricerca e dunque lo inserisco qui la casella numero cinque è riferita solo ai titolari sul sostegno a chi ricopre il ruolo di sostegno nella fattispecie io non ricopre ruolo di sostegno e dunque posso lasciare in bianco queste caselle l'ultima casella la casella numero 6 è riferita al punteggio aggiuntivo per cui si può rispondere no oppure sì nel mio caso dovrò rispondere no perché riferito alla luna tantum a un bonus di 10 punti una tantum per coloro che nel periodo che va dal 2000 2001 al 2007 2008 per quattro anni consecutivi hanno non hanno fatto domanda di mobilità per cui hanno garantito almeno un triennio di continuità nella scuola di in cui erano titolari per cui chi ha questa una tantum che non ha mai poi più utilizzato per altre mobilità potrà dichiararlo in questa casella qua chiaramente per tutto ciò che abbiamo detto questa questo sezione a di del servizio va riportate a nell'allegato di dell'anzianità di servizio per la scuola secondaria e poi allegato nella nell'indicazione degli allegati cioè prima portato nella gestione allegati che per cui faremo proprio un tutorial per vedere come si gestiscono gli allegati e poi richiamato attraverso la tendina attraverso questa tendina l'allegato di va riportato in questa sezione e quindi poi bispo si può fare salva speriamo che questo video tutorial sia utile ai nostri telespettatori e vi rimandiamo per le altre sezioni ad altri tutorial che andremo via via a pubblicare arrivederci e alla prossima